La polizia ha arrestato padre e due figli gelesi ritenuti particolarmente pericolosi. Nelle scorse settimane avevano picchiato i proprietari di un arancetto ad Akate che li avevano scoperti mentre rubavano 500 kg di arance. Notte brava per un tunisino a Modica, mette a soccuadro un pub del centro storico, aggredisce i proprietari, rompe il vetro di un'auto in sosta, colpisce un poliziotto intervenuto. L'uomo è lo stesso che aveva distrutto le telecamere del quartiere San Paolo. È stata presentata la petizione, gli sciclitani non sono mafiosi. Secondo il comitato, del quale fa parte anche il direttore del giornale di Scicli, è stato raccolto un numero sufficiente di firme da indirizzare alle massime cariche dello Stato. Modica dice no al TTIP, nella città della Contea, un incontro con Monica Di Sisto che ha relazionato sull'accordo commerciale di libero scambio in corso di negoziato tra Unione Europea e Stati Uniti. Benvenuti ad MTG, dunque l'avete sentito dai titoli. In apertura c'è la cronaca, conferenza stampa stamattina al comando provinciale dei Carabinieri per illustrare i dettagli dell'operazione Campagne Sicure che ha portato all'arresto di tre gelesi che nelle scorse settimane si erano resi protagonisti di un furto conclusosi con atti particolarmente violenti. I particolari nel servizio di Emiliano Di Rosa. Tre soggetti molto pericolosi arrestati alle prime luci dell'alba dai Carabinieri di Vittoria ed ora ai domiciliari, a Gela. Emanuele Calabrese, classe 1970, e i figli, poco più che ventenni, Angelo e Rosario. Lo scorso 11 di febbraio si erano resi protagonisti di un furto di arance, mezza tonnellata, in un'azienda agricola di Contrada Colla, a Dacate. Scoperti dai proprietari dell'agrumeto, avevano reagito con una particolare violenza, tanto da mandare le vittime in ospedale. Per una di loro ci sono voluti due interventi chirurgici. Gli spaccarono il setto nasale a pugni e poi altre lesioni e minacce. I tre gelesi sono tutti pluri pregiudicati per reati contro il patrimonio e la persona. Insomma, criminali pericolosi in trasferta nel territorio ebleo. E' gente ben consapevole di quello che stava facendo, è pericolosa proprio per i precedenti specifici che hanno, insomma, per le condanne riportate. Tant'è che una delle aggravanti contestate è stata proprio la reggitiva infracquinquennale. L'operazione è stata portata a termine grazie all'attività sinergica dei carabinieri e dell'autorità giudiziaria. Il procuratore Capo Petralì e il sostituto procuratore Puleio, che ha coordinato le indagini, e il GIP reale, che ha firmato le tre ordinanze di custodia cautelare. Fondamentale la collaborazione delle vittime e di altri testimoni. Le forze dell'ordine, conclude il comandante Fragassi, stanno profondendo il massimo sforzo per controllare e reprimere il crimine nelle zone rurali della provincia di Ragusa. Purtroppo la difficile congiuntura economica ha fatto sì che ci sia un incremento di questi reati predatori. E soprattutto in queste zone rurali, che non sono servite da videosorveglianza, non sono servite dall'immunazione pubblica, quindi sono un pochettino a rischio, tra virgolette. E noi è lì che stiamo fornendo la massima attenzione, proprio per cercare di rassicurare, come rassicurazione sociale, i cittadini, i coltivatori, gli agricoltori che lì hanno le loro campagne e che lavorano. Ancora cronaca, andiamo a Modica. Lo stesso tunisino che qualche settimana fa aveva distrutto le telecamere di videosorveglianza in pieno centro storico, ieri sera è stato protagonista di un'altra Notte Brava. L'extracomunitario è entrato in un locale di Piazza Matteotti e in preda ai fumi dell'alcol, ha cominciato ad armeggiare con il computer, con vari arredi. Ripreso dal titolare, il tunisino è andato in escandescenza, ha ferito un dipendente e poi anche un agente. L'uomo è stato denunciato. Questa notte un tunisino, poco più che maggiorenne, devasta un locale del centro storico di Modica, danneggia un'auto in sosta, ferisce uno dei titolari del bar e un agente di polizia è arrivato, lo arresta. Il protagonista di questa Notte Brava è lo stesso che qualche settimana fa aveva distrutto le telecamere di videosorveglianza installate nel quartiere San Paolo. Questa mattina il tunisino passeggia tranquillamente per Corso Umberto perché è stato denunciato a piede libero, visto che non è ancora stato condannato per il danneggiamento delle telecamere e risulta quindi incensurato. Erano da poco passate le due quando il nordafricano è entrato all'interno di un popolare locale del centro storico modicano frequentato da tantissimi ragazzi. Forse in preda ai fumi dell'alcol, il giovane comincia ad armeggiare con il computer del locale e con i vari arredamenti. Ripreso da uno dei titolari va in escandescenza, afferra una bottiglia di liquore e la butta a terra frantumandola. aggredisce quindi uno dei dipendenti che è costretto ad andare al pronto soccorso dell'ospedale maggiore. Nel frattempo arriva una pattuglia della polizia che blocca il giovane per arrestarlo. In uno scatto di ira colpisce uno degli agenti per liberarsi dalla presa e frantume il vetro di un'auto parcheggiata. Viene ripreso, riportato alla calma e portato in commissariato. La Polstrada di Ragusa ha denunciato un cinquantenne del posto per ricettazione, attività di demolizione abusiva, violazione degli obblighi di giudiziale e custodia e violazione dei sigilli. L'uomo aveva avviato abusivamente un'attività di demolizione e trattamento di parti di veicoli in due garage che sono stati sottoposti a sequestro. La struttura era stata sequestrata lo scorso 20 gennaio ma ora a seguito delle indagini è emerso tra le altre cose che all'interno si trovavano auto e pezzi di auto rubate. L'attività era proseguita dopo la rimozione dei sigilli. E' stato promosso un incontro dalla scuola media Giovanni XXIII di Modica, liceo scientifico di Modica, sul cyberbullismo. Un fenomeno in crescita a livello provinciale rispetto agli altri anni, come dimostrano i dati dell'osservatorio provinciale. I giovani alunni hanno dimostrato di conoscere i rischi e come comportarsi in presenza di un caso di bullismo. Viviana Sammito. Senza cravatta e davanti alla scrivania per non creare una lontananza con gli alunni, perché glielo ha consigliato suo figlio. Si è posto in questo modo il coordinatore dell'osservatorio provinciale del cyberbullismo, l'avvocato Carmelo Cataudella, che ha aperto i lavori nell'aula magna del liceo scientifico di Modica, questa mattina davanti ad una platea composta dagli alunni della Giovanni XXIII. Il fenomeno è assai diffuso tra i preadolescenti, sui giovani di 11 anni circa, rispetto al passato è cambiato il moglio di manifestarsi. Oggi si compie l'atto di prevaricazione e si mette in rete. L'avvocato Carmelo Cataudella ha spiegato di essere molto sensibile alla tematica dopo il racconto del figlio, il quale è stato testimone di una bravata di un compagno di classe a scapito di un altro giovane. Il livello di pericolo si è innalzato terribilmente, la fascia di età a rischio è quella dagli 11 anni in su. È una fascia di età a rischio perché le tecnologie moderne in uso ai giovani consentono loro di raggiungere immediatamente risultati tecnici impensabili. Gli abbiamo dato le Ferrari in mano, gli abbiamo dato l'iPhone, l'iPad, non gli abbiamo insegnato come guidarli. Abbiamo creato una pagina Facebook, i ragazzi hanno risposto immediatamente e hanno cominciato a mandarci i loro segnali di pericolo. Laddove i loro segnali di pericolo intendo situazioni di adescamento online pesanti, 150 euro per una tua foto col seno nudo, parlo di questo. I giovani tuttavia sono informati sui rischi e su come agire davanti ai calati di cyberbullismo. La famiglia innanzitutto dovrebbe denunciare le violenze subite dai ragazzini e soprattutto chi è contro questi ragazzi che vengono presi di mira. Eliminarsi dal proprio social network oppure di magari creare un profilo privato. Concetta Spadaro, dirigente della Giovanni XXIII, ha avviato il progetto per educare gli alunni alla cultura della legalità e della condivisione. È un rischio che corriamo tutti, adulti e ragazzi, ma a maggior ragione i minori che a volte possono essere vittima oltre che autori di questo fenomeno così ingrescioso. Dodicesimo presunto scafista arrestato dalla squadra mobile di Ragusa sarebbe uno dei responsabili dello sbarco di 398 migranti avvenuto ieri a Catania di cui 200 trasferiti a Ragusa. Il lavoro congiunto della squadra mobile di Ragusa e di Catania ha portato all'individuazione dello scafista. Si tratta di un senegalese di 24 anni riconosciuto dai migranti. Il giovane si trova adesso rinchiuso nel carcere di Ragusa. Incidente autonomo questa notte sulla statale 115 poco prima di arrivare alla zona artigianale di Modica. Un 36enne ha perso il controllo dell'auto che si è ribaltata. L'uomo si trovava solo alla guida di una Ford Fiesta sul posto ai carabinieri. Il giovane verrà adesso sottoposto ad esami per verificare se fosse in preda ai fumi dell'alcol. La petizione dal titolo Gli Sciclitani non sono mafiosi indirizzata alle massime cariche dello Stato è stata presentata ieri alla stampa a Scicli. Secondo il comitato del quale ne fa parte tra gli altri anche il direttore del giornale di Scicli, Franco Causarano, è stato raccolto il numero di firme programmato. Oltre mille cittadini non ci stanno alla facile semplificazione Scicli uguale mafia e hanno reagito attraverso la petizione lanciata da un comitato e indirizzata al Presidente della Repubblica Mattarella, al Governo e alle altre cariche dello Stato. L'esito della raccolta delle firme denominata Gli Sciclitani non siamo mafiosi è stato sintetizzato in conferenza stampa dal direttore del giornale di Scicli, Franco Causarano, tra i componenti del comitato che, tra gli altri, è riuscito ad avere le firme in qualità di primi firmatari dell'ex Presidente della Corte di Assise di Roma, Severino Santiapichi, del magistrato Salvatore Rizza, dello storico dell'arte Paolo Nifosi e dei componenti del gruppo di Scicli. Chiediamo la audizione presso le autorità competente per rappresentare appunto le ragioni della nostra città. Nella petizione si chiede di evitare lo scioglimento del Consiglio Comunale per sospetta infiltrazione mafiosa, si ribadisce l'onestà e la laboriosità degli Sciclitani e si invitano le più alte cariche dello Stato a visitare la città. C'è quest'altra situazione che noi chiamiamo amministrativa politica che riguarda l'ipotesi di scioglimento del Consiglio Comunale di Scicli. Ecco, contro questa ipotesi si sono, come dire, raccolte delle firme, c'è una petizione che è già stata inviata al Presidente della Repubblica proprio questa mattina. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità tra poco. Torniamo in studio, andiamo a Modica per parlare di un incontro che ha visto tra i protagonisti Monica Di Sisto che ha relazionato sull'accordo commerciale di libero o scambio in corso di negoziato tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Il servizio. Modica dice no al partenariato Transatlantic per il commercio e gli investimenti. Lo ha fatto ieri pomeriggio con un evento promosso da cittadini parte civile che ha voluto approfondire il tema. Secondo questo accordo si punterebbe all'eliminazione delle cosiddette barriere tarifarie, ovvero tutte quelle forme di regolamentazione che tutelano beni fondamentali come salute e ambiente. Ad intervenire Monica Di Sisto, giornalista e vicepresidente di Fairwatch, membro comitato campagna nazionale Stop Trip. Qual è il risultato invece che vuole ottenere il TTIP? È riuscire a livellare le regole di sicurezza, di garanzia, di qualità dei prodotti e dei servizi tra noi e gli Stati Uniti. Sono quelli che fanno problema tra noi e gli Stati Uniti perché noi abbiamo molti più controlli, siamo per esempio il paese che ha più controlli alimentari d'Europa, abbiamo molte più caratteristiche da rispettare per esempio nei prodotti agroalimentari, cosa che negli Stati Uniti non c'è e che quindi non si traduce in un costo per le imprese. L'evento è stato fortemente voluto da Angelo Di Natale del Comitato Promotore. Questa nuova disciplina sulla regolazione dei commerci tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea faranno strage di quelle norme, di quei vincoli, di quelle protezioni che oggi l'Unione Europea e al suo interno, devo dire, l'Italia è all'avanguardia a protezione dei diritti delle persone, della salute, dell'ambiente, cioè della qualità della vita. Perché l'America, che in tante altre cose è più avanti dell'Europa, è più avanti di noi, e purtroppo in questo cambio invece è molto più indietro, perché lì vige la regola assoluta cioè del commercio e della motivazione economica al di sopra di tutto. Dimissioni di massa all'Associazione e concessionari di Vittoria. Questa mattina il Presidente Filippo Giombarresi ha rassegnato il mandato di Presidente. Giombarresi scrive testualmente «Constatato di essere ormai da intralcio a molti e considerato di molti impegni personali inderogabili, mi dimetto dalla carica di Presidente dell'Associazione e concessionari di Vittoria, dando mandato alle procedure per la sostituzione». Insieme a Giombarresi si è anche dimesso tutto il direttivo dell'Associazione, che in una nota stampa firmata dai cinque componenti motiva così la decisione. Prendendo atto della situazione che si è venuta a creare all'interno del mercato, il direttivo rimette il mandato e si dimette da tutte le cariche dell'Associazione e concessionari Ipparina. Adesso c'è un servizio dell'Ufficio Commerciale che parla di un seminario formativo all'indirizzo odontotecnico dell'Istituto Curcio di Ispica. Nuova iniziativa promossa dall'Istituto Curcio di Ispica. Questa volta gli studenti dell'indirizzo odontotecnico hanno partecipato ad un corso di formazione che gli ha permesso di avvicinarsi al mondo dell'ortodonzia. Gli studenti hanno potuto apprendere le basi di un settore che mette nelle condizioni di avere molti sbocchi. L'Istituto ci ha dato l'opportunità di presentare il nostro programma formativo di base che coinvolge odontotecnici e medici di caratura nazionale e internazionale che prestano il loro servizio esclusivamente a titolo gratuito, questo lo voglio sottolineare perché per loro è un grande sacrificio, per dare un'opportunità a questi ragazzi che sono delle quarte e delle quinte classi di approcciare il mondo ortodontico che per loro è una branca abbastanza sconosciuta. L'importanza di questo percorso formativo sta nel fatto che possono apprendere direttamente le tecniche ortodontiche da queste persone che hanno veramente delle qualità straordinarie. Soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico. Abbiamo ritenuto che era un'occasione per loro proprio entrare direttamente nel mondo professionale che lì aspetterà da qui a qualche anno. Sono occasioni uniche che noi abbiamo voluto prendere al volo e ringraziamo proprio l'associazione per avere dato la possibilità ai nostri ragazzi di entrare proprio nel merito e di mettersi a contatto con professionalità nuove che possono per loro aprire sbocchi futuri. Successo della cucina Iblea e Modicana in particolare a Filadelfia negli Stati Uniti su iniziativa dell'Associazione Regionale Siciliana di Filadelfia con il supporto dell'Associazione Ragusani nel Mondo si è svolta nella città americana la degustazione di piatti tipici preparati dal ristoratore Carmelo Muriana e dai cuochi Peppe Ciccazzo e Vincenza Armenia dell'Osteria dei Sapori Perduti di Modica. Presenti tra gli altri agli eventi culinari che hanno riscosso grande apprezzamento il console italiano Andrea Canepari a fare gli onori di casa Pippo Rollo di origine ragusana che da tempo è promotore di scambi socioculturali con la Sicilia. Il sindaco di Ragusa a Piccitto e il vice sindaco e assessore allo sport Iannucci hanno ricevuto stamattina in comune dirigenti tecnici e giocatori della squadra di calcio New Team. Nel corso dell'incontro l'amministrazione comunale ha premiato la squadra fresca vincitrice del campionato di prima categoria con una sfilza invidiabile di vittorie. Il servizio. È stata una stagione trionfale quella del New Team Ragusa che addirittura con cinque giornate di anticipo è approdato in promozione stravincendo il campionato di prima categoria una sfilza invidiabile di 19 vittorie consecutive e tre pareggi. Bravi tutti i giocatori. Bravo il presidente Giovanni Vitale, l'allenatore Fabrizio Vacca questa mattina l'amministrazione comunale ha premiato la società e i calciatori ricevendoli nell'aula consigliare. Tanta la soddisfazione. Un grande gruppo, una grande società e un traguardo storico raggiunto nei gironi di prima categoria siciliana perché le 19 vittorie sono state 19 vittorie consecutive. In tempi di difficoltà diffuse nel mondo dello sport, soprattutto quando si parte dal basso, il New Team Ragusa è in controtendenza. Ma non è un miracolo, è il frutto di una lunga e mirata programmazione, ci dice ancora il mister. La progettazione e la pianificazione della New Team parte da qualche anno fa, parte da dieci anni fa esattamente. Io sono qui da sei anni e in sei anni con una buona pianificazione, valorizzando i ragazzi di Ragusa e siamo riusciti a raggiungere questi raguardi importanti. E siamo alla consueta pagina dedicata al calcio con Modica e Vittoria impegnate domani in un turno fondamentale per la salvezza. Sentiamo. Una vittoria, un pareggio e dieci sconfitte. Sette gol fatti, 27 subiti. E' il tremendo ruolino esterno del Modica Calcio che non vince lontano dalle mura amiche dal 7 settembre ed ha preso solo un punto nelle ultime 11 trasferte. Numeri che sono sintomi di una pochezza tecnica che in casa viene in parte camuffata, ma che fuoriesce in tutta la sua evidenza. Con queste premesse anche la trasferta sul campo del fanalino di coda Taormina appare ricca di insidie. Il Modica però non può concedersi altre pause, deve pensare a conquistare la migliore posizione possibile in gradatoria in vista degli oramai quasi sicuri play-out. A Taormina non ci saranno Nassi e Filicetti, infortunatisi domenica scorsa, e Cantone squalificato dopo l'espulsione contro il Via Grande. Si abbasserà quindi ancora di più l'età media dei Rosso-Blu. Situazione simile in casa Vittoria, che domani sarà impegnato nello scontro diretto contro il Paternò. E' una partita da dentro o fuori per gli uomini di Sebicatania, tornato ad indossare gli scarpini dopo anni di inattività, causa carenze numeriche a centrocampo. Contro i Rosso-Azzurri di Ciccio Pannitteri, apparsi in netta ripresa e reduci da un filotto di risultati positivi che li hanno trascinati fuori dalle sabbie mobili, occorrerà vincere se si vuole ancora tenere accesa la fiammella di Speranza. Poi si penserà al derby di Modica, che sarà decisivo in ottica play-out. Baravecchia ha chiamato in settimana i tifosi, sperando di ravvicinare anche gli Ultras, che mancano dalla Culfo Ottone da diversi mesi. Dal canto suo, il massimo dirigente vittoriese ha acquistato un nuovo attaccante, Danilo Merchionni, prelevato dall'eccellenza laziale e ha dato il ben servito a buon fratello, che non ha convinto nella sua breve esperienza in maglia bianco-rossa. Prosegue il percorso sicurezza sociale per i ragazzi dell'Anfa Sollus di Modica, che dopo aver visitato il Comando Provinciale della Finanza, questa settimana si sono recati alla stazione dei Carabinieri della Compagnia di Modica, ad accogliergli il maresciallo e il brigadiere, che hanno illustrato le principali attività che i carabinieri svolgono sul territorio. Il pomeriggio si è concluso con un piccolo banchetto preparato dagli stessi carabinieri. Pulizia straordinaria dell'invaso della diga di Santa Rosalia, l'iniziativa organizzata dall'Associazione Carp Fishing Italia, si svolge domani dalle 9 alle 15. Saranno impegnati i membri dell'Associazione per tutta la mattinata. A conclusione, la consegna degli attestati di partecipazione ai volontari impegnati nell'operazione di pulizia. E in scena domani alle 18 e alle 20 al Teatro Masd di Ragusa, lo spettacolo di e con Michele Arezzo, schegge impazzite, tutti i bambini nascono artisti, pochi lo restano crescendo. Le musiche sono del maestro Peppe Arezzo. Non ci sono altri aggiornamenti, il nostro telegiornale per il momento si ferma qui. Grazie dell'attenzione prestata e arrivederci alle prossime edizioni.